Ciao amici di Videoripetizioni, oggi ti parlo della nostra esperienza, della mia esperienza con l'aggiornamento da Windows 8.1 a Windows 10 Ho scritto questo articolo ieri alle 10 e il sito ha avuto così tanto traffico che ha collassato il server, è andato in tilt per ben due volte Questa è una cosa positiva perché vuol dire che Videoripetizioni è stato uno dei primi in Italia a far vedere le immagini di aggiornamento a Windows 10 E' una cosa negativa perché il server nonostante mi garantiva tanto traffico in realtà non era vero, non ha retto Beh, vediamo il lato positivo Quindi adesso ti sto parlando delle prime schermate italiane dell'aggiornamento, era il titolo di ieri che forse cambierò Dell'aggiornamento passo passo di Windows 10 Ti faccio vedere innanzitutto questo articolo e poi un breve video che ho fatto con il tablet alla fine di questa videoripetizione Dove ti chiedo scusa magari per le immagini un po' mosse ma tanta era l'emozione mia e di un mio caro amico che muovevamo lo schermo Ecco, la prima schermata che ti appare quando ti accorgerai che stai aggiornando a Windows 10 Ovvero una volta che clicchi sotto questa icona, cioè l'app di aggiornamento a Windows 10 Ti accorgi che sei pronto per il tuo aggiornamento perché non ti appare questo messaggio ma ti appaiono tre righe Dove alla terza c'è scritto ok procedi con l'aggiornamento oppure, seconda scelta, fallo più tardi Se clicchi procedi con l'aggiornamento questa è l'immagine che vedrai Operazione in corso e qui ti ho scritto tutto, ci mette circa 5 secondi Dopo 5 secondi attendere, preparazione per l'aggiornamento sotto la scritta Microsoft e supporto legale Questa è la terza schermata dove puoi leggere con calma tutte le condizioni di licenza Microsoft In basso a destra c'è scritto non accetto e quindi non aggiorni oppure accetti, leggi con calma La quarta schermata è questa, l'aggiornamento è pronto per l'installazione Ti ricordo che l'aggiornamento pesa circa 3 giga e dal momento che hai questa scritta non ti preoccupare Perché il tuo computer connesso precedentemente a internet già ha scaricato tutto Quindi non è che devi scaricare 3 giga in questo momento Se decidi di riavviare l'aggiornamento, vedi, clicchi qua, a destra oppure aggiorna in seguito E ti consigliano di salvare il tuo lavoro sul PC e tenerlo collegato e acceso L'aggiornamento richiederà un po' di tempo e leggendo sui blog ufficiali Microsoft Può durare intorno ai 20 minuti se hai un computer o un portatile di ultima generazione Cioè con 4-8 giga di RAM, un processore i5, i7 o uno AMD, insomma quad, core o con 8 core Oppure fino a un'ora come è durato nel caso nostro Ti dico pure una chicca, cioè stavamo con la batteria e non ci siamo accorti che non era accesa la corrente La multipla della corrente Quindi veramente a metà aggiornamento a Windows 10 si è spento il computer Ti dirai che coglioni, scusa la parolaccia, però è vero E in realtà il computer con Windows 8.1 con cui siamo partiti se l'è cavata benissimo Perché nel giro di 8 minuti cronometrati è riuscito a ripristinare il sistema operativo precedente E poi abbiamo proceduto la seconda volta con l'aggiornamento Quindi mi pare che proprio qua, alla schermata del 25% si è spento il computer, il blackout totale E niente, però come vedi, dato che sono molti mesi che Windows 10 sta in giro, in circolazione come Technical Preview Qualche vantaggio c'è, cioè si è ripristinato per fortuna tutto il sistema operativo Windows 8.1 E poi abbiamo proceduto una seconda volta l'aggiornamento a Windows 10 Quindi da questa schermata, aggiornamento è pronto, clicchi avviare l'aggiornamento Nel nostro caso un computer medio, ti dico, 4 giga di RAM e un processore Intel i3 Quindi neanche tanto veloce, anzi Dopo due minuti appare questa scritta, configurazione dell'aggiornamento per Windows 10 in corso Non spengere il computer, a noi si è spento, l'abbiamo rifatto E, ah, se vuoi qua puoi scrivere il tuo nome e la tua migliore email Così rimani aggiornato su Windows 10 e anche su tante altre novità Questa è la sesta schermata con l'aggiornamento di Windows 10 E come vedi qua procede la percentuale di aggiornamento Il PC verrà riavviato più volte, attendi Nel nostro caso è stato riavviato 3 o 4 volte Qui puoi vedere me e il mio amico Marco che stavamo dietro lo schermo E riprendevamo chi col tablet e chi col telefonino E come vedi, guarda, fai caso a queste tre scritte in basso Copia dei dati in corso Quindi la prima operazione che fa l'aggiornamento del tuo PC, del tuo computer a Windows 10 È la copia dei file in corso Fatta questa operazione farà l'installazione di funzionalità e driver Non è obbligatorio ma ti dico che è consigliato essere connessi a internet Perché? Perché nel nostro caso non c'eravamo connessi a internet durante l'aggiornamento Una volta acceso Windows 10 ci siamo connessi a internet ed è stato quasi 40 minuti a scaricare altri aggiornamenti E il terzo step, il terzo passo, è la configurazione delle impostazioni Che ci mette un po' di tempo Ecco qua E adesso ti procediamo con il video così ti faccio vedere gli ultimi istanti di Windows 10 Ecco non far caso allo schermo, alla mano tremula Perché questo ero io col tablet E come vedi sta facendo la configurazione dell'aggiornamento E va avanti la percentuale 4%, 10, 25% Ci mette circa cronometrato 15 minuti Con 4 giga di RAM in un processore medio Prenditi quindi il tuo tempo perché almeno se hai un computer medio Almeno un'oretta ci vuole Quindi se devi fare qualcosa di importante Non fare l'aggiornamento a Windows 10 Altrimenti rischi di passare un'ora a guardare lo schermo come noi Ecco stiamo al 15% come vedi sta andando avanti Non tutti possono installare subito dal 29 luglio 2015 Windows 10 Ma pochi alla volta Questa è la politica Microsoft Dopo ti dirò un trucchetto per capire se a breve lo installerai anche te Come vedi qua sta facendo il riavvio in corso Dopo circa 15 minuti Questo è il primo di 4 riavvie 3 o 4 riavvie A un certo punto avevamo perso il conto Ecco qua si sta riavviando Questi siamo noi con tablet e telefonino Che riprendevamo Immortalavamo il momento Siamo stati per fortuna i primi Diciamo tra i primi in Italia A disporre di questo aggiornamento Era tanta l'emozione Non ti nascondo che era tanta l'emozione Qui si sta forse riavviando Windows 10 Ed ecco qua che parte la schermata di aggiornamento a Windows 10 E quei 3 macro argomenti macro area Cioè la copia dei file L'inizializzazione dei driver Eccola qua vedi E la configurazione delle impostazioni che ti facevo vedere Come primo step ti fa scegliere la rete internet Ti consiglio di sceglierla subito dall'inizio Eccola qua si sta collegando se Dio vuole Alla rete internet Ti commento le foto finali Perché alla fine mi ero stufato di fare il video E come vedi qui ti dice fai più in fretta Ovvero decidi le impostazioni rapide Oppure vai sulle opzioni avanzate Ti consiglio le impostazioni rapide Proprio perché perdi meno tempo E poi puoi andarti a vedere opzione per opzione con calma Nel tuo Windows 10 Cosa e come configurarlo meglio La schermata successiva è questa Nuove app per il tuo nuovo Windows 10 Come vedi ti introduce Edge Il nuovo browser al posto che rimpiazza Google Chrome che rimpiazza Internet Explorer Film e programmi TV Musica Diciamo fa una carrellata di alcune novità Anche qui puoi scegliere di personalizzarti le impostazioni a sinistra Oppure vai avanti con le impostazioni rapide a destra Scegli te, non c'è fretta Questo sono io con il tablet che sta facendo la foto Quindi stiamo configurando il PC E' la prossima scritta che vedrai Oh, in realtà ho iniziato a fare foto Perché tra una schermata nuova e un'altra Vedi, dice non servirà molto tempo In realtà passavano 5-10 minuti Fra una schermata e un'altra Di conseguenza dico vabbè Piuttosto che fare un video enorme Preferisco fare delle fotografie A un certo punto Windows 10 Ha iniziato pure a prendermi in giro Perché mi diceva ci siamo quasi Era ora di cena E mi chiamavano E no In realtà non c'eravamo quasi Passavano ancora altri 15-20 minuti Ed ecco qua Questa è la prima schermata di Windows 10 Come vedi ha funzionato Ci abbiamo messo quasi più di un'ora E ha mantenuto tutti i programmi E tutte le icone già esistenti Sul desktop Se ce la fai a vederlo Come vedi Licenza Windows 10 Originale Con numero di licenza Quindi ha funzionato tutto Correttamente A te com'è andata? Ce l'hai fatta a Aggiornare Windows 10? Oppure ancora no? Non sei rientrato tra i primi Che hanno ricevuto l'opportunità Di aggiornare Windows 10? Fammi sapere nei commenti E fammi sapere cosa ne pensi Tra l'altro Alcuni hanno anche provato A forzare quell'aggiornamento C'è un metodo Se ti interessa chiedimelo nei commenti Di questa video ripetizione E ti rispondo E così ci ragioniamo insieme Ti ringrazio per l'attenzione Spero di esserti stato utile Se ti è stato utile Pollice all'insù Condividi con i tuoi amici Così aiuterai anche gli altri A far diffondere questo canale video ripetizioni Ti ringrazio Ti mando un abbraccione E ti saluto Alla prossima Ciao 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 ciao